Olivieri alla fine dice a Carlo Corsani che la Samp ha giocato ma non ha vinto dichiarandosi più arrabbiato che amareggiato. Ha subito tre gol sul giocato da fermo e il risultato si spiega in questi termini. Si spiega anche con la presunzione, caro Olivieri, di avere gioco facile dopo il gol d'inizio autorete di Ferroni su tiro di Scanziani. Nel tacquino del clonista infatti non ci sono più azioni perentorie in questa fase per la Sampdoria se non dopo la doppietta Miani e Carobbi, vediamo i gol, tra il ventesimo e il ventiduesimo. Espulso Mancini dopo il gol di Graziani che vediamo, reo di qualche parola di troppo, la Sampdoria ha giocato ancora trovandosi sempre un Galli a dire di no da par suo. Ma anche questo non può essere un particolare con un calico di valore fortuna e sfortuna. Galli era tre di ora.